Passi chiusi, pericolo valanghe marcato, disagi in termini di percorribilità delle strade e di servizi pubblici. Le nevicate abbondanti di ieri hanno creato alcuni problemi alla provincia di Belluno. Nel capoluogo e a Feltre, dopo lo stop alle corse urbane dei bus deciso da Dolomiti Bus al culmine delle precipitazioni, il trasporto pubblico è tornato alla normalità al netto di alcune limitazioni, ripristinata anche la maggior parte delle corse del servizio extraurbano, interrotte per l'impraticabilità delle strade. E a proposito di vie di comunicazione, in mattinata Veneto Strade ha confermato la chiusura dei principali passi dolomitici. Basti pensare che sul falsarego, dati di questa mattina, la nevicata ha alzato il manto di mezzo metro, portandolo oltre il metro e sessanta. A Padola, 66 centimetri di neve fresca, a Col dei Baldi, in mezzo metro, ad Araba, 49 centimetri. Ma apporti abbondanti si sono avuti anche a quote più basse, come testimoniano i 35 centimetri di Belluno, i 32 di Feltre e il mezzo metro di Arsie.